Ciao Renzo, tutto bene? Io mi aspettavo di vederti distrutto, disperato, non meritavamo niente, ma è un disastro, è un accaporetto, è un accaporetto, tra Inter, Udinese, Napoli, una su quattro e una che ha perso 3 a 0, è passato il Milan che ha perso 3 a 0 in casa dell'Arsenal e poi per il resto è un disastro. L'Inter proprio non c'è, poi è anche sfortunata perché è un po' come il Napoli che ha avuto... Almeno vatela a giocare i supplementari, come ha fatto il Napoli. Invece ha preso il gol al 92esimo, io ero là figo, mi dispiace solo per il pubblico. Vediamo due immagini, gente ce n'era, no? Era pieno, un tifo dal primo minuto all'ultimo e poi hanno approvvito ancora i giocatori a fine partita, l'abbiamo visto, purtroppo... Purtroppo... Cioè il Marsiglia è andata veramente bene, è andata veramente bene perché ha segnato l'andata al 92esimo e oltre e al ritorno... Ma siamo noi che siamo dei piccioni. Brandava. Ma come si fa? Ma come si fa? Io ero là, guarda, sull'1-1 me ne sono uscito, non ho neanche guardato, non ho neanche visto il rigore, me l'hanno detto poi fuori, al campo, che abbiamo vinto 2-1. Tanto non c'era finito. Per me era uscito, sull'1-1 ormai cosa faccio? Ho detto cerchiamo di uscire perché poi è un disastro, è San Siro, perché stavamo facendo i lavori della metropolitana e quindi i parcheggi sono tutti via, devi lasciare la macchina fuori dallo stadio, è un caos, abbiamo messo un'ora per uscire dallo stadio, con la macchina, perché era tutto bloccato. E comunque è andata malissimo anche a Napoli. Anche il Napoli ha avuto le occasioni subito, la sbagliate come noi, noi abbiamo avuto due occasioni da passare sul 2-0. E l'Udinese è anche peggio, anche peggio. Dopo la bruttissima partita fatta all'andata, ieri sera dopo un quarto d'ora erano 2-0 e con un uomo in più. E non sono riusciti, hanno subito quel gol lì. Purtroppo io la considerazione che ho fatto è che noi della Juve diciamo che siamo imbattuti, siamo una bella squadra, siamo ancora imbattuti in questo campionato. A questo punto perde valore anche la nostra imbattibilità, perché se fai la imbattibilità con delle squadre che perdono contro un olandese, una francese. Cioè il Marsiglia è l'unica squadra francese che si è qualificata come l'Italia, siamo alla Pari. Marsiglia e Milan. Gli spagnoli invece vanno alla grandissima. L'unica piccola soddisfazione è stata del mio Bilbao, che ieri sera i commenti, perché la partita non l'ho vista, poi ho visto gli highlights, i commenti sono stati di una lezione di calcio del Bilbao al Manchester United, che è stato eliminato. E' eliminato, e anche loro, siano i due Manchester se sono stati eliminati. Tutti e due, sì, anche Balotelli. Voi adesso domani sera a Firenze siete. Domani sera siamo a Firenze, ma prima noi siamo tutti concentrati sulla Milano-Sanremo. Milano-Sanremo che è domani pomeriggio. Sì, la Milano-Sanremo di domani. Va bene, allora, voltiamo pagina, che cosa dobbiamo fare? È una tristezza, è una tristezza vedere il calcio italiano sprofondare. Risorgeremo, dai, risorgeremo. Allora, vediamo il sommario, che naturalmente di questa puntata non può prescindere in apertura dal commento sulla Milano-Sanremo, che tu hai registrato con il nostro solito commentatore di tutti gli anni, Mario Cattaneo. Quindi lui ci parlerà, non so se ha fatto anche dei pronostici. Ha fatto anche dei pronostici. Sentiremo. Poi passeremo, dopo il servizio sulla Milano-Sanremo, passeremo al pallanuoto femminile con la Mediterranea Imperia, poi le bocce con il punto sulla Roverino 20 miglia, il golf, un'intervista con il nuovo presidente del circolo golf degli olivi di Sanremo. Poi un servizio sulla pallamano 20 miglia, il punto volley, il punto basket, ancora il ciclismo, ma degli amatori, col trofeo Marchignoli, il settore giovanile dell'Argentina Arma e in chiusura al Meteosport in collegamento con Achille Pennellatore. Allora, incominciamo con la Milano-Sanremo. Cominciamo a parlare della Milano-Sanremo, che è la gara più attesa di tutti. Ci sono i pronostici, si dividono, sono quasi tutti però per ciclisti stranieri. Ebbè, c'è anche per Nibali. Nibali, sì. Poi c'è Wiggins, parlano benissimo di Wiggins, poi però il favorito, anche se è la gara più lunga del calendario internazionale, gare di un giorno ovviamente, le grandi classiche, diciamo che l'arrivo previsto è quello in volata. Quello in volata, sì. Se arrivano in volata, Cavendish... Si marcheranno tutti fino all'ultimo, fino al Pogge e poi... Cavendish, Boissonnagen... Io non mi ricordo nemmeno come si chiamava quello che ha vinto l'anno scorso. Comunque, insomma, si spera, come da sportivi italiani, che si ritorni a una vittoria italiana. Va bene, allora, adesso vediamo questo servizio, vediamo il servizio perché stiamo andando un po' troppo lungo, vediamo il servizio di apertura sulla Milano-Sanremo di domani. Anche quest'anno organizzate voi? Sì, diciamo la centotresima edizione. Noi sono centotre anni che lo organizziamo come arrivo e come tratto finale, per cui siamo soddisfatti e manteniamo una tradizione che è quella iniziale, dove la Sanremese è stata quella che ha proposto alla Gazzetta l'arrivo della Milano-Sanremo. Per cui io come dirigente sono veramente onorato di portare avanti questo testimone che mi ha lasciato persone che hanno fatto dei sacrifici per arrivare a questa centotresima edizione. Ci saranno delle variazioni di percorso o sarà sempre la classica Milano-Sanremo? No, salvo inconvenienti dell'ultima ora, diciamo che il tratto finale da Genova-Sanremo è lo stesso, con le mani, poi abbiamo il Poggio-Cipressa e l'arrivo sempre sul lungomare Calvino, piazzale da Porto, per cui ormai si è confermato un arrivo valido, anche perché Sanremo non ha alternative, parliamoci chiaro, perché oltretutto questa è una realtà, che comunque è come l'avevamo proposta noi e con questo tipo di rapporto è ancora la sede ideale per far vedere ancora a Sanremo com'è bella e come si presenta agli stranieri. L'arrivo nonostante il postigio lì sarà libero piazzale da Porto? Io non ho informazioni ulteriori, per cui diciamo che l'arrivo è lì, con le problematiche che vedrà l'amministrazione comunale, certamente, noi siamo solamente di supporto all'amministrazione per tutti i lavori che vanno fatti e che dovranno essere presidiati. Siamo ormai quasi in primavera, troveranno delle giornate calde i corridori, quindi faticheranno di più arrivare a Sanremo. Sì, diciamo che le previsioni, da come ho visto ancora questa mattina, danno un po' nuvolo, ma niente pioggia a fare, per cui poi noi qui siamo in un'isola felice, penso che troveranno senz'altro l'ambiente ideale e quello che Sanremo presenta come suo biglietto da visita. Sarà l'anno che vincerà un italiano, che ritornerà a vincere un italiano o sempre agli stranieri andrà questa corsa? Ma questa è una bella lotta, anche perché c'è gente che si nasconde, perché non vuole far vedere ancora lo stato di forma. E c'è gente come Petacchi, che a mio avviso è tutto un carissimo ragazzo che ho avuto anch'io come dirigente regionale nelle figlie della Liguria e mi pare che fisicamente non sia tanto a posto, per cui questa mi dispiace. Però abbiamo Nibali, ha uno stato di forma eccezionale. Sagan, un suo compagno di squadra che è veloce, pur non essendo italiano, però per una squadra italiana. E poi io non toglierei sia Cavendish, perché è sempre un uomo che è sempre da temere. Freire, che si sta nascondendo bene, sta lavorando in funzione della Sanremo. Ushoff, poi abbiamo Guardini, Modolo. Cioè, la Sanremo è sempre la Sanremo. La Sanremo è difficile perché non è facile partecipare, è difficile vincerle, perché basta un attimo, basta uno scarto, basta qualcosa e la bellezza della Sanremo. Poi la classicissima, io vorrei tornare a chiamarla classicissima, perché qualcuno se ne è dimenticato. Per cui la classicissima è la corsa più bella del mondo. E noi ne siamo orgogliosi. Sì, era Matthew Goss, quello che ha vinto l'anno scorso. Si, abbiamo a tutti mollata e a cancellare. Fabian Cancellara, eh, di fatti potrebbero essere altri due protagonisti. Eh sì, due protagonisti potrebbero essere. E' una roulette, ce l'andiamo a giocare tutti, cosa ti giochi? Io mi gioco Nibali, Nibali. Spero in un italiano, perché l'ultima vittoria l'abbiamo ottenuta nel 2006, quindi spero in un italiano. Speriamo, dai. Allora, voltiamo pagina, basta Milano-Saremo. domani tutti collegati con i grandi network nazionali, allora adesso invece andiamo sulla pallanuoto perché torneremo a parlare di ciclismo più avanti ma adesso appunto passiamo alla pallanuoto femminile per sentire Marco Capanna, allenatore della Mediterranea Imperia e sentiamo e vediamo anche dal volto tutta la sua soddisfazione per la serie di risultati positivi che le ragazze della Rari hanno ottenuto nelle ultime due settimane vai sono stati 15 giorni molto importanti e molto belli che però ci vogliamo già dimenticare, quello sicuro perché adesso abbiamo, ci siamo conquistato grazie a questo periodo quello che sognavamo e quindi... Ti li vuoi dimenticare nell'immediato ma saranno indimenticabili per la tua vita e per la vita delle ragazze sì perché ci hanno portato a giocarci delle emozioni che non è facile neanche quando costruisci una squadra per vincere che ci arrivi a giocare su più obiettivi quindi sicuramente è stata una bella prima parte di stagione prima parte di stagione la mettiamo già come prima parte di stagione adesso la parte finale si giocherà tutto in pochissimi giorni non so le date della Final Four però sicuramente quelle della finale di Coppa L'Eme sono 28 aprile e 2 maggio sì, è un mese quando saremo al completo di nuovo al ritorno delle nazionali che spero e tifiamo tutti che si qualificano per le Olimpiadi avremo un mese nel 24 giocheremo qua con Messina al 28 giocheremo la finale di andata in casa contro la squadra siberiana il 2 giocheremo in Siberia alla finale di ritorno poi il 9 giocheremo contro la Fiorentina all'ultima di campionato e il 19-20 maggio c'è la Final Four queste partite che mancano del campionato sono 3 se non sbaglio 2 a questo punto qua manca soltanto Messina e Fiorentina sono per te ininfluenti oppure no? no, assolutamente no uno perché dopo Recco ce l'avamo detti di cercare di avere un certo tipo di continuità e di risultati e due perché abbiamo ancora la possibilità di arrivare terzi e quindi fino alla fine ci proveremo non ci cambia più di tanto ma puntiamo al massimo e comunque per preparazione a partite da vincere bisogna vincere è stata quella persa malamente malamente non per colpa vostra a Recco la partita della svolta? sì, forse sì sì perché ci ha dimostrato di essere cresciuti di essere molto cresciuti di dover ancora crescere per sopperire agli episodi a quello che può succedere in una partita di pallanuoto quindi ci ha dato lo stimolo per capire che siamo noi che decidiamo da lì in avanti qual era il nostro destino finora non ci lamentiamo io dico che il Recco spera che voi arriviate terzi io sono sicuro che il Recco spera che arriviamo terzi ecco, allora non me lo sono inventato no no, sono sicuro che ci temono come ci temono tutte le squadre e questo per noi è un fattore positivo perché rispettiamo tutti molto sappiamo di partire un gradino in svantaggio come qualità e esperienza ma non temiamo proprio nessuno e questo credo che sia la forza di questa squadra di queste ragazze in questo momento ecco io poi chiudiamo qua ho letto una tua dichiarazione forse è stata estrapolata da un discorso generale adesso puntiamo a vincere tutto l'hai detto oppure te lo smentisci? no, non ho detto vinciamo tutto sicuramente proviamo a vincere tutto non ci cambia niente arrivare quarti o secondi in campionato secondo me cambia perché se arrivi il secondo vai a fare la Champions l'anno dopo in Europa sì, il discorso della Coppa Campioni ci sta ma sinceramente a oggi questo mese e mezzo noi lavoreremo i secondi non se li ricorda nessuno quindi noi puntiamo a vincere campionato e Coppa poi dipenderà degli episodi e dipenderà tanto da questo periodo come lavoreremo quanto ci metteremo in discussione perché abbiamo ancora tanto da migliorare nonostante le ragazze siano state fantastiche soprattutto in questo periodo dopo la copertità in Ungheria a Catania io credo che Abbiate ha raggiunto il top no ma sì perché poi le condizioni oggettive erano particolari invece la squadra è veramente composta da ragazze favolose proprio su questo io voglio lavorare e pensare di diventare perfetti nel momento più bello e decisivo Allora preparati Sì sì andiamo in Siberia ti porto io il cappello con il colbaccio Arcipelago Gulag mi tengono lì chiuso Vabbè noi tifferemo per queste ragazze Magari se fosse stata la finale contro l'Olimpia Cos Pireo che andavano a giocare a Atene uno dice ma chissà mai mi trovo uno sponsor me lo porto dietro mi pagano il merdi ma in Siberia è impossibile Passiamo all'altro sport adesso siamo nella seconda parte l'Unione Sportiva Bocciopila-Roverino perde per 9-11 l'incontro di play-off giocato contro la familiare Alessandria sentiamo il vicepresidente Alessandro Leuzzi La regular season ci ha visto arrivare terzi in rimonta perché la partenza del campionato non è stata sicuramente delle migliori poi siamo riusciti ad agguantare quello che era il nostro obiettivo stagionale che era quello dei play-off quindi direi che insomma possiamo tranquillamente dire che la regular season è stata positiva e ci ha soddisfatto nelle aspettative Oltretutto quest'anno voi avete cambiato molto sulla formazione che avevate l'anno scorso Sì, abbiamo inserito questi due ragazzi giovani francesi provenienti appunto dalle scuole francesi che eccellono ormai per quanto riguarda i tiri anche a livello internazionale sono bravi hanno sicuramente margine di miglioramento l'esperienza è servita a loro per migliorare e a noi perché ci ha fatto fare quel salto di qualità che ci ha permesso di essere ai play-off e di essere competitivi a tutti i livelli Oggi questo spareggio con la familiare di Alessandria? Spareggio con la familiare di Alessandria che sulla carta onestamente bisogna dire che ci vede favoriti perché il fatto di giocare in casa è sicuramente un vantaggio che noi abbiamo anche se nei fatti oggi siamo sicuramente in difficoltà l'incontro non è ancora finito abbiamo ancora la speranza del gioco tradizionale che è la nostra vera forza di questo campionato e vediamo un attimo oggi abbiamo avuto anche la defezione di Rossello che a causa di impegni lavorativi è potuto solamente arrivare a mezzo servizio quindi non è arrivato preparato al top però insomma questo è un giocatore che per noi è importantissimo la sua assenza può anche aver pesato sull'andamento fino adesso della partita Comunque vada i programmi per il prossimo futuro programmi per il prossimo futuro Comunque vada certo se ci fosse la Serie A sarebbe bellissimo se la Serie A non ci sarà sicuramente di allestire una squadra per la prossima stagione da puntare nuovamente almeno ai play-off che è insomma come dire il gradino che compete la nostra società dopo almeno 25 anni di vertice nelle bocce nazionali Una Serie A che se avvenisse costa molto ci vorrebbe degli sponsor forti e questo nelle bocce non è che se ne trovano tanti Assolutamente, la Serie A è un campionato che ha dei costi per il nostro bilancio che sono sicuramente fuori dalla portata però speriamo che nell'entusiasmo di un'eventuale promozione della massima serie ci sia anche qualche imprenditore locale che creda nella nostra società nella nostra dirigenza e nei giocatori e ci possa aiutare a raggiungere magari anche l'obiettivo della salvezza che potrebbe sicuramente essere il nostro obiettivo in un possibile anno di Serie A Un plauso va fatto anche a tutto il pubblico che vi segue numeroso quando fate le partite casalinghe Assolutamente, noi abbiamo uno zocolo duro che almeno da 15 anni ci segue sempre spesso e volentieri anche in trasferta dove organizziamo pullman eccetera questa cosa ci gratifica tantissimo perché significa che attaccati a questa società non ci sono solo i giocatori ma c'è tutto un circolo ricreativo che è vivo, che esiste mentre magari in altre società bocciofile questa cosa non la si vede noi abbiamo i nostri supporter sempre con noi speriamo di dargli soddisfazioni maggiori di quelle che fino ad oggi abbiamo avuto ma è chiaro che il budget societario ci permette questo Però è la società più importante della provincia d'Imperia società di bocci Assolutamente, nella provincia d'Imperia ormai da anni siamo nell'elite siamo sicuramente una delle migliori società non voglio dire la migliore ma anche per correttezza nei confronti delle altre però sicuramente penso che perché insomma siamo impiati su più fronti anche nella specialità Petank non abbiamo solo il campionato del volo di Serie B e basta insomma in tutte le categorie tutte le domeniche c'è un nostro giocatore che ci rappresenta questo per noi è motivo di grande orgoglio Peccato, mi dispiace mi dispiace per il Ventimiglia ha fatto un buon campionato è arrivato terzo poi se per caso arrivasse la promozione in Serie A non riescano a sopportarla perché non ci sono soldi non ci sono sponsor va bene così un campionato nelle prime va benissimo Allora adesso ci fermiamo un attimino per quel che riguarda lo sport giocato perché andiamo a sentire l'intervista che abbiamo realizzato con il nuovo presidente del Circolo Golf degli Olivi Sanremo è stato eletto poco tempo fa si chiama Alberto Bianchieri sentiamo Innanzitutto un appassionato golfista sono da più di 30 anni che ho intrapreso questo fantastico sport e adesso sono qui pronto a portare avanti questo incarico che mi è stato dato Ecco, come ti è venuto in mente Alberto cioè di metterti in lizza per diventare presidente del Circolo Golf degli Olivi so che tu eri a capo di una delle due liste che si sono candidate per Beh, parte da un progetto che era già nato da alcuni mesi che si era anche condiviso con Lino Mortiliengo ed era nato proprio il fatto di fare una squadra di avere una squadra forte per poter fare anche degli investimenti importanti al Circolo Investimenti di che genere? Beh, innanzitutto gli investimenti più importanti è l'impianto di irrigazione noi oggi abbiamo abbiamo anche per convenzione comunque abbiamo un intervento importante da portare avanti anche perché il nostro campo anche quando si passa dall'autostrada si vedono appunto le sponde del RAF e anche il fairway d'estate che sono sempre secche questo perciò è un intervento l'impianto assolutamente da fare e è anche il manto erboso cioè bisogna cambiare la tipologia di erba anche perché con l'innovazione oggi abbiamo nuovi sistemi di manti erbosi che permettono un minore utilizzo dell'acqua Allora, 500 soci quelli che sono iscritti al Circolo Golf degli Olivi e in giro si dice il Circolo Golf degli Olivi da parte ha un tesoretto e quindi non soffrono questi momenti di contrazione, di crisi, anzi No, non è assolutamente così ci sono state accantonate negli anni passati del Somme che sono già state utilizzate perché abbiamo rifatto il Consiglio precedente di Amortilieno, abbiamo rifatto la sala ristorante anzi, invitiamo anche a utilizzarla perché è un ambiente stupendo unico e soprattutto nelle zone prima avrilli e estive si può mangiare anche sulla terrazza poi sono stati fatti altri interventi anche al campo pratica in altre zone del campo miglioramento delle buche e quant'altro Allora, tu eri a capo di una delle due liste a capo dell'altra lista che si è candidata cioè come candidato presidente c'era il tuo amico immagino Silvio Maiga ci puoi dire quali sono i nomi dei tuoi consiglieri o dei consiglieri che sono stati eletti con te? Sì, i consiglieri eletti con noi sono Sandro Cipollina Paolo Marzocco Mauro Giancaterino Roberto Grammatica Fabrizio Macario e Flavio Grassi il quale approfitto per ringraziare per aver accettato l'incarico Ecco, perché? Perché Flavio Grassi faceva parte dell'altra lista Esattamente Flavio Grassi è dell'altra lista ma questo non vuol dire assolutamente si lavora in armonia perché l'interesse di tutti è lavorare per il circolo Senti, invece per quel che riguarda il livello sportivo quali novità ci possiamo e ci dobbiamo aspettare con l'avvento del nuovo corso? Beh, la data più importante quest'anno il circolo compie 80 anni ed è una data importantissima perché innanzitutto Sanremo è credo il secondo circolo più anziano d'Italia dunque stiamo valutando di portare a Sanremo nei primi una tappa dell'Aps Tour che è previsto per adesso mi spugge la data però penso dal 7 all'11 di giugno con una relativa Pro-Am una gara perciò aperta anche agli amatori e ci stiamo lavorando anche col Comune di Sanremo per fare degli eventi collaterali affinché tutta la città possa così partecipare a questa importante data Oh, bene abbiamo conosciuto così anche il nuovo presidente del golf uno sportivo Bianchieri lo conosciamo tutti in bocca al lupo speriamo che sia una bella ripresa per questo sport che comunque è uno sport che sta andando molto bene adesso torniamo invece a Ventimiglia e questa volta c'è una vittoria sì, la pallamana Ventimiglia vince il primo dei tre incontri dei play-out battendo al Pallaroia un coriaccio San Giorgio Molteno per 30-26 vediamo il servizio se oggi cominciamo la sera di play-out dove speriamo uscire Vicente di modo da rimanere in questa categoria giochiamo con tre altre squadre che sono oggi qua non mi ricordo neanche il nome Molteno dopo c'è il Ferrarin e il Dertona dove giochiamo la settimana prossima la squadra è motivata si sono ben allenate abbiamo anche avuto un allenamento con il Monk questa settimana di modo da vedere se facciamo progress in che condizioni siete arrivati a questi play-out? abbiamo qualche infortunio uno purtroppo uno dei migliori giocatori e una speranza della ballamana italiana Giorgio Filibert si deve far operare nazionale under 20 vediamo se la facciamo senza di lui lo stesso comunque Mister per il primo campionato in Serie A2 è un campionato positivo sicuramente abbiamo vinto qualche partita abbiamo imparato il nostro difetto una sera a due difficile però positiva nel suo insieme avete inserito anche molti giovani nella formazione nella nostra formazione abbiamo più di 50% di under 18 e la media dell'età è attorno alle 23-24 anni tutta la squadra perciò abbiamo qualche anno davanti a noi belle positive il complauso va fatto anche al pubblico che vi segue sempre numerosi speriamo ancora di più in queste play out che sono difficili e che ci continuano a sostenere come fanno sempre se rimanete in Serie A2 che rinforzerete la squadra per il prossimo campionato abbiamo chiesto anche del rinforzo come dicevo prima dal Monaco però è difficile dobbiamo anche avere del sostegno di sponsor che sia la nostra città il Comune di Vettimiglio o altri sponsor più privati ma vedremo quell'anno prossimo il mister è soddisfatto di questo andamento? nell'insieme sì che sia io il signor Malattini che è assente oggi però mi ha già telefonato due o tre volte è normale è la sua squadra siamo soddisfatti possiamo fare di grosso progresso sono giovani e devono imparare anche a tanti e questa è la palla a mano di Vettimiglia Ivano Perilli Pivot Uras Umberto terzino a sinistra Riccioputi Marco Pivot Benzutti Luca alla destra Cristi Bollo terzino Avessio Dattis centrale Maugeri Mirko terzino Gassi Paolo portiere Luca Cattaneo portiere Silvio Coppo alla Lina Policron centrale Abbello Gianluca terzino Terza parte stiamo andando veramente a tutto gas adesso chi gioca a pallacanestro si può godere il punto basket della settimana vediamo Iniziamo questa volta con la Serie C regionale femminile dove le girl dell'ospedaletti hanno giocato e vinto l'ultima partita della regular season un recupero contro il Maremola finito con un nettissimo successo 78 a 43 per le Orange che hanno concluso così la prima fase al primo posto appaiate alle rivali di sempre le genovesi del Sidus Life il Sidus ha però il vantaggio della differenza canestri a favore negli scontri diretti e così nei prossimi playoff promozione partiranno con un vantaggio nei confronti di ospedaletti e veniamo ai campionati maschili mentre stiamo già vedendo le immagini dell'unica vittoria in questo campionato la Serie D vittoria che arriva dall'Olimpia armataggia che non ha troppo faticato per battere 78 a 43 il BK Team Savona che è ancora a zero punti nel raggruppamento per evitare la retrocessione l'Olimpia è invece al quarto posto su sei squadre e deve ancora cercare punti importanti domani in casa alle ore 18 contro la Juvenilia Varazze che la precede al terzo posto in classifica nella pool promozione dove giocano le migliori dieci della D regionale le nostre due squadre hanno tutte e due perso da pronostico Imperia superata la Maggi con 20 punti di scarto dal forte Don Bosco con recriminazione invece ospedaletti battuto di misura 56 a 53 a Rivarolo contro un quintetto che è solo all'ottavo posto mentre ospedaletti è quinto domani ancora vita durissima per Imperia che alle 21 e ancora alla Maggi gioca contro la prima in classifica la Prorecco più semplice invece per ospedaletti che non può sbagliare più anche se in trasferta a Genova contro l'Ardita Ardita che è ultima della classe e scendiamo in promozione dove si è giocato il derby del ponente tra BVC Sanremo e Bordighera gara combattuta nonostante il grande divario in classifica e finita con la vittoria della più forte la Ranabò ma con soli 8 punti di vantaggio 55 a 47 Bordighera resta così al secondo posto a due lunghezze dalla capolista Pegli e con un bel più 4 su fortitudo e finale domenica sarà il giorno della verità perché alle 19 al Palasport di Via Diaz si gioca Bordighera-Pegli sfida che deciderà le posizioni di vertice della regular season potrebbe farcela anche il BVC ottavo che va in trasferta contro Rivarolo decimo in classifica a livello giovanile dei campionati che abbiamo seguito restano l'Under 15 e l'Under 14 entrambi elite tra i più grandi si giocava l'ultima della prima fase e il BVC Sanremo ha stravinto 81 a 36 sul Maremola e si qualifica così per i quarti di finale dei play-off dove però giocherà domenica gara 1 in casa del dopolavoro Spezia una delle due capoliste del campionato nulla da fare invece per Ospedaletti che ha perso contro Vado 90 a 65 e termina così la sua stagione infine nell'Under 14 elite Imperia ha perso 67 a 60 lo scontro per il terzo posto in casa del Canaletto Spezia prima di una domenica di pausa per questo campionato che tornerà il 24 e 25 marzo ok bene andiamo avanti così speriamo che vadano un po' meglio le nostre squadre e stiamo attenti a quello che faranno le ragazze dell'Ospedaletti che stanno disputando un grandissimo campionato adesso è arrivato il momento che è tanto atteso da tutti gli appassionati di pallavolo lascio quindi la parola lasciamo la parola a Cesare Fagnani per il punto volley il campionato di Under 14 maschile interprovinciale Savone Imperia è giunto alla quinta giornata domenica scorsa nella palestra Ormondi Sanremo la nuova Lega pallavolo Sanremo che nelle immagini vedrete in maglia blu ha superato per 3 a 0 il volley Cairo questi gli altri risultati Golfo di Diana 3 a 1 su Albissola Cariparma sconfitto per 3 a 0 dal ponente volley in classifica Cariparma secondo con 11 seguito da Pozzo dei Desideri Nuova Lega pallavolo con 7 e Golfo di Diana con 6 in prima divisione maschile Cariparma 3 a 0 su Sabazia Savona Golfo di Diana 3 a 0 su Vado Tremoviter Sanremo Alteibrec su Carcare sconfitto Coapi Sanremo Alteibrec dal ponente volley dopo 9 giornate Cariparma al comando con 25 seguito da Coapi e ponente con 22 in prima divisione femminile le vittorie sono andate all'olio colto Taggia 3 a 1 su Tallyway Pizzeria Mediterraneo 3 a 0 su Anfossi Taggia Nuova Lega pallavolo 3 a 0 su Amnesia Ventimiglia Valsteria 3 a 0 su Sanremo volley e pallavolo argentina 3 a 1 su Dorecadiano dopo 9 giornate saldamenta al comando l'argentina con 27 punti seguita da Valsteria con 23 Under 14 femminile penultima giornata Golfo di Diana 3 a 0 su San Camillo NLP Funivia 3 a 0 su Maurina NLP Altavia 3 a 0 su Salis Ventimiglia Anche qui al comando Nettamente Altavia con 27 punti Per quanto riguarda l'Under 16 femminile si è conclusa la regular season Al primo posto la Nuova Lega pallavolo rossa con 35 punti seguita da Olio Colto Taggia Maurina e Centrovolli Bordighiera Domenica nella Palestra Ormon si svolgerà la Final Four Ore 9 Nuova Lega Bordighiera e alle 11 Olio Colto Maurina Nel pomeriggio alle 15.30 finale terzo e quarto posto e a seguire la finalissima Campionati di serie in B2 femminile la Maurina Volley supera per 3 a 0 Junior Casale e lo raggiunge in classifica a 12 punti il distacco dalla zona salvezza si riduce a 9 punti C femminile Carini Sanremo perde al tiebreak con Albaro Volley penultimo posto in classifica con 7 punti in C maschile il Cariparma supera per 3 a 0 il Volley Team finale Grafica Amadeo sconfitte dal Villaggio Volley per 3 a 1 Grafica è settimo posto Cariparma ottavo in D maschile l'Hollipop Sanremo perde al tiebreak con l'Olimpia Voltri ma mantiene l'ottavo posto in classifica di femminile si è conclusa la regular season con Salis 20 miglia al terzo posto con 36 seguita dalla nuova Lega Palavolo con 32 la Maurina al sesto posto con 25 punti 20 miglia e nuova Lega accedono alla pool promozione la Maurina alla pool salvezza l'avvio di questa seconda fase è prevista per sabato 31 marzo sempre sulle immagini di Pozzo dei Desideri Volley Cairo vediamo i principali appuntamenti del weekend domani ultima giornata di under 14 femminile ormonore 16 NLP Altavia Maurina e alle 18 NLP da Romano Golfo di Diana al Pallaroia alle 18 Salis 20 miglia NLP Funivia sempre al Pallaroia ma per la prima divisione femminile alle 21 amnesia 20 miglia anfossitaggia per la C maschile alle 21 al Palaitis Cariparma Carige Genova domenica oltre alla già citata final 4 di under 16 femminile under 14 maschile Montale Bordighera ore 15 Nuova Lega Pallavolo Golfo di Diana chiude la prima divisione maschile a Cittera alle ore 19 derby tra le due squadre di Sanremo Tremoviter e Coapi io ho concluso vi auguro un buon weekend organizzato da Lungaciclismo torniamo al ciclismo torniamo al ciclismo di livello un pochettino diverso organizzato dall'Udaci Imperia e da Remo Marchignoli si corre domenica mattina 35esimo trofeo papà e mamma Marchignoli corsa ciclistica sul percorso Sanremo Imperia e ritorno sentiamo la presentazione è una corsa che io ho sempre dire ho sempre voluto perché a parte che è un memorial che oggi io penso che sia l'unico di poterlo organizzare in Italia perché non c'è nessun'altra persona che possa organizzare questa gara io col cuore e con l'anima continuo a organizzare e andare avanti che sono 35 anni che organizzo questa gara speriamo nel bene del tempo e che viene parecchi partecipanti e i premi o dire ci sono e con l'onore e col piacere di poterle premiare tutte le cose che vadano bene il percorso quale sarà allora il percorso è dalla villetta da villetta prima dalla villetta al ristorante dei desideri si parta turisticamente si va giù a Sanremo e poi si va verso Arma di Taggia se sono tutti tutti riuniti che non c'è corridore indietro do via il pronto e via facciamo poi arriva Santo Stefano Santo Stefano San Lorenzo Dolcedo Caramagne tornando indietro davanti la sigga Galareto di Riva di Santo Stefano c'è un traguardo volante che tutti gli anni l'ho sempre fatto prima secondo terzo poi un'altra cosa molto importante è che io col fratello di Giusta Antonello ho dedicato questo traguardo volante davanti alla Serenella il ristorante della Serenella di Sottabussane un traguardo volante Memorial di Antonello giusto è giusto che sia così perché è un collega un amico un brevissimo ragazzo purtroppo la sua sfortuna gli è andata male noi lo ricorderemo anche un minuto di silenzio in memoria di questo ragazzo perché è veramente un grande amico la premiazione sarà penso di arrivare verso le 10 e mezza un quarto alla 11 al ristorante dei desideri dalla Villetta ci sarà la premiazione e tutta la rimanenza in questa corsa tutti gli anni intervengano molti corridori francesi ho una grande partecipazione di corridori francesi e questo mi fa piacere perché è l'onore che loro ottengono anche i premi date che sono premiati da Remo Marchignoli con tutti i prodotti di igiene alimentare tutti quelli corridori che vogliono perché le coppie non li vuole più nessuno e io ho anche dalle ditte responsabili specialmente che quest'anno mi hanno rifornito specialmente la Moretti alimentare la più grossa che c'è in Italia campo nazionale che mi ha contribuito con dei premi che poi lo vedremo poi alla premiazione ci ho anche saguato che la ditta dei vermentini pigato e rossese di Codidiano Castello Diano San Pietro anche lui mi ha contribuito con delle bottiglie e la principale è la ditta Torricelli di Codialba di Monforte dal Piemonte con il Dolcetto e tutto il resto tocco l'Ekea bene siamo nella quarta ultima parte parliamo un po' di calcio perché non ne abbiamo abbastanza domenica mattina si è giocato allo Sclavi di Arma l'incontro di calcio del campionato allievi regionali tra l'Argentina e il Muttedo hanno vinto i ragazzi di Stracabete con rette di Mazzocca e Lanteri e con questa vittoria ora guidano la classifica brava vediamo gli allievi regionali dell'Argentina battono il Muttedo per 2 a 0 e li scavalcano in classifica li presentiamo perché è una squadra che merita Gabriel Knezzevic portiere Martini Samuele portiere Simone Comparatto centrocampista centrale Carmine Mio terzino Fontana Giovanni difensore centrale Lorenzo Dumarte terzino destro Daniele Lanteri centrocampista Di Matteo Gabriele centrocampista Alessio Murro attaccante Mirko Simari difensore Andrea Succi centrocampista Alessandro Bruno terzino Andrea Capena attaccante Mila Rigioni trequartista Ludovico D'Amico esterno Thomas Mazzocca esterno Oggi praticamente era l'andata che aspettiamo questa partita purtroppo l'andata è andata male in casa loro abbiamo affrontato la partita proprio colpiglio sbagliato giustamente avevamo voglia di rivincita e oggi si è vista tutta tutti i ragazzi compresi quelli che sono entrati è andato al 110% e l'abbiamo preparata nei dettagli sapevamo loro gli esterni abbiamo proprio preparato tutto e devo dire che non hanno sbagliato niente 2 a 0 chi ha segnato i gol? Ha segnato e sullo scadere Lanteri un tiro da fuori ha scavalcato il portiere ed è entrata in gol Una vittoria che vi dà la possibilità di superare il Montedo e adesso avete 6 giornate per vincere il campionato Sì siamo adesso davanti di 2 punti diciamo che dall'andata da quando abbiamo perso lo scontro di Retto li abbiamo vinte tutte praticamente adesso quella di oggi è la dodicesima vittoria consecutiva sono ragazzi straordinari hanno fatto 110 gol ne abbiamo subiti solo 15 quindi c'è poco da dire su questa squadra qua ci mancava ancora questa soddisfazione di vincere per poterli sorpassare e proprio con loro senza nessun regalo di nessun'altra squadra e devo dire che questo è quello che mi riempie di gioia perché è quello che hanno fatto oggi Ho visto delle individualità veramente ottime che possano avere un futuro nel mondo del calcio Sicuro di questa rosa qua una decina possono tranquillamente giocare in prima squadra il prossimo anno dalla promozione prima categoria infatti sono giocatori che meritano e sono convinto che di qua a fine stagione qualcuno esordirà anche in prima squadra da noi perché se lo meritano e qualcuno forse può avere anche qualche ambizione in più l'anno prossimo la categoria 96 fa gli allievi nazionali cioè le squadre professionistiche io spero che Genoa Sampdoria Torino che qualcuno oggi era anche presente al campo possa dare la possibilità di provare a loro in quel contesto lì perché qualcuno se lo merita davvero tanto sono felicissimo è stata una bellissima partita anche dal punto di vista sportivo non posso che fare nuovamente i complimenti all'allenatore che è Vincenzo Stragapede che oltre a guidare un bel gruppo del settore giovanile ha forgiato una bellissima squadra che sono i 96 abbiamo anche altre squadre che adesso sono parecchie squadre il vertice della classifica spereremo di finire così il campionato è ancora lungo starà a lui a vedere un po' di portarci tanta soddisfazione quindi un settore giovanile che funziona alla grande direi che ci sono ancora tanti segni meno ma tante belle soddisfazioni vedo che i genitori sono felici è sempre una società dilettantistica cerchiamo comunque di dare il meglio sempre perché i ragazzi devono stare bene intorno a questo campo e magari qualcosa e comporarsi bene anche fuori dal campo abbiamo dei maestri di calcio ma anche di vita qua all'Argentina adesso domenica dove andate giochiamo sabato con la Coolpolis a Genova sabato pomeriggio è 5 meno un quarto in riferimento al discorso tuo ci tengo a dire come settore giovanile abbiamo l'Ignores prima con due punti sull'Imperia e vabbè noi adesso siamo primi i giovanissimi 97 che sono la fase regionale sono primi anche loro i 98 di Coccoluto sono primi anche loro diciamo che nella fase agonistica in provincia non so chi ci abbiamo davanti quasi nessuno speriamo come dice giustamente il Presidente di portare a termine questi risultati perché comunque mancano ancora due mesi di calcio dove non dobbiamo mollare niente a nessuno bene allora siamo alla fine di questa puntata come al solito chiudiamo con un collegamento con un archile pennellatore un archile pennellatore per il Meteo Sport ci sarà naturalmente un collegamento che noi come al solito non riusciamo a vedere perché questo problemino tecnico non riusciamo a risolverlo persiste comunque non riusciamo a risolverlo così adesso gli lasciamo a lui sia tutte le previsioni la curiosità dov'è questa sera dov'è questa sera si presenta allora tutte le previsioni soprattutto per la Milano Sanremo perché sai che le previsioni del tempo per questa gara così lunga che attraversa parte dal nord poi la pianura lombarda i passaggi sull'appennino arrivano sul mare possono cambiare tantissimo le condizioni del meteo e quindi diventano molto importanti soprattutto perché è una gara molto lunga e fatica anche per gli sportivi perché ci saranno molti amanti del ciclismo che si porteranno sulle alture qua di Sanremo su Verta già nei giorni scorsi ho notato un aumento del traffico ho visto il pulmo della Shimano ho visto un po' di gente c'è movimento è una cosa che porta a movimento sicuramente io volevo anche ricordare che tra poco inizia all'auditorium della Camera di Commercio di Imperia la cerimonia della premiazione degli Oscar del CONI degli Oscar dello Sport e potrebbe anche essere speriamo di no però potrebbe anche essere l'ultima perché l'intenzione del governo è quella di togliere tutte le sedi provinciali del CONI e quindi in Ligure ci sarà una sede del CONI solo a Genova e invece adesso una cosa sbagliata molto sbagliata perché sono è considerato un presidio si hanno abituato a molte cose sbagliate qua in Italia troppe cose sbagliate non ne parliamo non creiamo polemiche perché è inutile creare problemi siamo un po' demoralizzati con lo sport in effetti vabbè io direi di salutare salutiamo e lasciare la parola a Chile Penelatore per il suo meteosport e poi sarà lui a dirci quando è che sarà la prossima certo ciao Renzo mi raccomando domani sera a Firenze sta a Juventus si riavvicina un po' a Milan come detto dopo quello che è successo in Europa è un campionato che è un po' svalutato segui bene la partita e controlla l'arbitro perché per conto mio hanno sbagliato a mettere Bergon comunque a Chile ci parlerà anche del sorteggio del Milan del Milan assolutamente lasciamo a lui ciao a tutti in replica alle 23 e buona domenica ciao ciao Paolo ciao Renzo mi desta un po' qualche perplessità che voi non abbiate parlato dell'estrazione di Champions League in fondo è una cosa che interessa a tutti va beh che non c'è la Juve per Renzo non c'è l'Inter per me e per Paolo però insomma bisogna dirlo che il Milan non è che sia andato molto bene ma della Champions League ce ne occuperemo fra un po' ora mi avete preparato alcuni avvenimenti sportivi iniziando da domani sabato la Milano-Sanremo ebbene avete visto prima nel tempo che domani non accadrà ancora niente per quanto riguarda le perturbazioni ci saranno delle nuvole al mattino velature nel pomeriggio ecco da segnalare che da Voltri fino qui a Sanremo i corridori saranno un pochino aiutati da vento di Levante quindi li spingerà non c'è il vento contrario in poche parole poi sempre domani alle 18 abbiamo Parma-Milan a Parma e anche in questo caso avranno bel tempo non ci saranno neanche le nuvole basse che abbiamo qua scusate alle 20.45 Fiorentina Juve anche a Firenze il tempo sarà buono magari comincerà a velarsi il cielo anche in quel di Firenze e poi vediamo domenica non mi avete preparato avvenimenti calcistici solo alle ore 8.45 di buon'ora già domenica corsa ciclistica del 35esimo trofeo Marchignoli percorso Sanremo Imperia e ritorno anche domenica ci sarà vento di Levante quindi dell'andare in là ce l'avrete sul naso mentre a venire in qua sarete di nuovo anche in questo caso come il giorno prima la Milano sarete aiutati poi martedì 20 questo c'è Juve Milan di Coppa Italia a Torino alla sera la perturbazione tra domenica e lunedì se ne andrà quindi martedì tornerà il bel tempo e penso che non ci sarà a Torino neanche nebbia e poi è certo che il Milan non è andata molto bene adesso non dico che gli fosse capitata l'Apoel di Nicosia questo sarebbe stato troppo facile ma almeno il Benfica e chissà quanti falli ci sarebbero stati in quella partita purtroppo ci è capitato a tutti noi il Barcellona e quindi anche se io sono interista quella sera ti ferò Milan e sarà credo una bella partita è tutto grazie a tutti ciao Paolo ciao Renzo buonasera a tutti